1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,3,4 1,2,3,4 1,3,4 2,3,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1 Riprendiamo dalla battuta qua. Il piede era meglio, lo prendevi alle spalle. Ero sicuro che ci pensavi tu. E sta attento. Qualche volta cerca di guardare lassù. Ma quello è il killer di prima. Sì! Sì, ma come c'è arrivato qui? Ce l'ho portato io. E in due si muore meglio, no? No, 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 no! No, no, no! Silenzio! Un, due, tre, quattro. La 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 la... La, 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 la... La, 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 la...